Io credo che una buona notizia da comunicare è che possiamo diventare estremamente capaci di risvegliare in noi l'entusiasmo alla vita e l'entusiasmo alla vita deriva dal senso che possiamo dare alla vita e nello yoga il senso da dare alla pratica risveglia un grande entusiasmo. La dimostrazione è che nella mia tarda età continuo ad avere un grande entusiasmo per la pratica dello yoga e cerco di trasmettere questo segreto della vita, l'entusiasmo. Grazie